Non sono passate inosservate le immagini di Franco Di Mare, ospite a che tempo che fa con un visibile tubo respiratorio attaccato al naso. Il giornalista nel raccontare il suo ultimo libro le parole per dirlo chiarisce subito il senso di quelle immagini. Questo tubicino che mi corre sul viso è un tubicino legato ad un respiratore automatico e mi permette di respirare in modo forzato, ma mi permette di essere qui a raccontare, a parlare con te. Mi sono preso il mesotelioma, un tumore molto cattivo legato alla presenza di amianto nell'aria e si prende tramite la respirazione di particelle di amianto, senza rendersene conto. Io stasera brinderò con gli amici perché io ho avuto una vita bellissima e le memorie che io ho sono memorie piene di vita e non voglio fossilizzarmi intorno all'idea della morte, ma che ci sia una vita tutti i giorni. Quello che mi dispiace è scoprirlo solo adesso, non è ancora finita eh, perché come dice Boscov partita finisce quando arbitro fischia e il mio arbitro non ha fischiato ancora. Tutta la RAI si è dileguata dopo la mia malattia, tutti i dirigenti, non questi ma anche quelli precedenti. Io chiedevo alla RAI di sapere l'elenco dei posti dove fossi stato per chiedere alle associazioni di categoria cosa potessi fare. Sono spariti tutti, queste persone sono sparite, si sono negate al telefono, non rispondevano più a me, cheppure ero un dirigente, una cosa per cui trovo un solo aggettivo, ripugnante. Grazie. 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 Grazie.